A casa gobbi di merda, a casa, a casa, dovete sportivamente bruciare, a casa, a casa, gobbi di merda, a casa, a casa, merda, a casa, a casa, a casa, ce la siamo strameritati e vincere così è ancora più bello, è più bello di quanto avremmo dovuto vincere 3 a 0 nel primo tempo, merda, schifo della terra, siete la vergogna di questo sport. E stasera comunque giù, 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 giù la testa, vi abbiamo messo le palle in faccia, sulla testa, a casa, merda, a casa, ce la siamo meritata, siete lo schifo della terra, anche questa sera due rigori rubati col VAR, una roba scandalosa, crepate, a casa, merda, a casa, a casa. L'abbiamo vinta, 2 a 1, all'ultimo secondo. Chiedete scusa a tutti a Sanchez, chiedete scusa a tutti al Nigno Maraviglia, che anche stasera è entrato e l'ha decisa. Questo è un campione, un fenomeno tecnicamente e dovete portare rispetto ai fenomeni. Benvenuti, monarchici assoluti, scusate ma è appena finita, voi sapete l'odio che mi muove verso queste merde, questo schifo della terra, che inquinano lo sport che tutti noi amiamo. Però grazie a Dio stasera ce l'abbiamo fatta, è stato giusto così, non avessimo vinto sarebbe stato uno scandalo, ok, uno scandalo. Anche stasera forse si sono superati, perché stasera su tre rigori netti, grossi come una casa, ce ne hanno dato uno solo. Il primo su Barella dopo 7-8 minuti poteva decidere già la partita, perché noi dopo 7 minuti avevamo avuto due pallegol, ok, con Lautaro, ok, anche con Dzeko. Lautaro che l'ha tirata fuori al volo, Dzeko di testa per un pelo, ok. Poi Barella viene lanciato in aria, anticipa Chiellini, che gli tocca il piede, rigore grosso quanto una casa, quel corrotto, perché a questo punto ragazzi, ma guarda, neanche corrotto, scusate il termine. Semplicemente a libro paga dei gobbi, come tutti gli arbitri. D'altronde ricordo sempre che l'FCA, ovvero la Fiat, di cui il padrone è lo stesso della Juve, è sponsor sia della FIGC, quindi Lega Calcio Italiano, che dell'AIA, Associazione Italiana Arbitri. Quindi semplicemente ha dovuto accontentare il suo padrone, negando un rigore netto come una casa e non andandone a calvar. Continuiamo a giocare, la dominiamo, loro fanno un cross, deviato da Skriniar fra l'altro, gli arriva di testa a McKennie, un tiro, un gol. Non ci scoraggiamo perché siamo grandi, siamo più forti di loro, continuiamo a giocare, possesso, dominiamo, altre occasioni, finché ci va a dare rigore su Dzeko, finalmente ce l'ha fatta, ok. Batte Lautaro, che stavolta batte benissimo, perché la tira alta all'incrocio spiazzando il portiere. Bravo Toro, bravo Toro, 1-1. Continuiamo a dominare, loro si chiudono davanti la porta, mettono l'autobus come la provinciale che sono, perché loro giocano da provinciale. Quell'allenatore mediocre e scarso, grazie alla Madonna che non è venuto all'Inter di Allegri, li fa giocare in dieci davanti ai linei della porta. Continuiamo a dominare, li surclassiamo. Altra azione, Bastoni che stasera, oltre a Sanchez ovviamente, che ha deciso la partita, è stato per distacco il migliore in campo. Continuava a sovrapporsi, dribbling, cross. Numero 1, Bastoni. Ok, che succede? Bastoni entra in aria, lo prende col piede, credo, McKennie, mi sembra lui, non mi ricordo se era lui, Chiellini, uno di loro, insomma. Altro migliore, grosso come una casa, verso la fine del primo tempo, negato. Non va, anche stavolta, non va neanche al VAR. Ma d'altronde lo sappiamo, loro sono lo schifo della terra, inquinano lo sport che amiamo da più di cent'anni e purtroppo nessuno può fare niente perché comandano loro. Quindi vabbè, lo sappiamo, però sto giro si sono superati perché parliamo di due regorinetti in meno di 45 minuti con il VAR. E' una roba che nemmeno, ma guarda, nemmeno credo in Nigeria, dove c'è la dittatura, sapete noi signori della guerra, ma anche loro avessero una squadra di calcio, non ruberebbero così tanto davanti agli occhi di tutti. Ma lo sappiamo, i gobbi di merda fanno eccezione, quindi devono continuare a rubare. Secondo tempo, stessa linea del primo, quindi gialli per loro, non dati, hanno fatto interventi, roba da macellai, rugani non so quante ammunizioni doveva prendere, lo stesso Chiellini, Alexandro, tutto come niente, va bene. Noi caliamo un po', perché comunque la stanchezza inizia a farsi sentire, ma continuiamo a dominare, scusate. Li dominiamo, li surclassiamo, Inzaghi fa il primo cambio, toglie tutta l'attacco, quindi Dzeko e Lautaro, e mette Corea e Sanchez. Ora, sapete io quanto adori Corea, però in questo momento Sanchez è in forma ed è capibile, perché Dzeko per tutto il primo tempo, a parte quella palla di testa, non ha avuto altre occasioni e si vede che ancora non è in forma, perché il Covid lo ha debilitato molto. Quindi io sicuramente non avrei tolto Lautaro, perché una prima punta d'appoggio ci vuole sempre, piuttosto metti, sì, Sanchez, ma non per Lautaro, mettilo per Dzeko, Lautaro lascialo in campo, perché un appoggio, prima punta, anche se non fisica, ma comunque Lautaro la prima punta la sa fare, ci vuole sempre. Infatti, appena escono loro due, noi smettiamo di appoggiarci sulle punte, praticamente continuiamo a fare un possesso fra difesa e centrocampo, ma non riusciamo ad andare in verticale granché. Tranne qualche spunto di Sanchez, che magari imbuca, ha imbucato in maniera stupenda su Vidal, che ha dato lo scarico dietro a Brozzo, ha tirato e è stato rimpallato, qualche altro imbucato ha fatto, ma iniziamo a perdere un po'. Ha tirato poi fuori anche Barella, mister Simone Enzaghi, giusto, perché Barella si vedeva che anche lui era in calo, è entrato Vidal, che ha fatto un'ottima partita. Poi ha tirato fuori anche Perisic, che anche lui era in calo, ha messo Di Marco, ok, e poi Danfris per darmi anni, i cambi tutti giusti, ripeto, tranne Lautaro che non avrei tolto. Noi continuiamo a dominare, possesso solo nostro, loro solo nell'area, loro davanti alla porta, però niente, non riusciamo a sfondare, anche se abbiamo qualche altra occasione, tipo di testa su calcio d'angolo per un pelo, non andiamo a segnare, però niente, la palla non entra. Finché, finché cross in mezzo di bastoni, la svirgola fa una mezza cappellata Alexandro, ok, su Darmian, che stava marcando Darmian, la palla svirgola, arriva il nigno Maraviglia, più veloce di tutti, e la mette in porta, al centoventesimo. Una goduria, ragazzi, sto ancora godendo come un porco. Voi sapete che io difficilmente mi lascio andare, ma avete visto anche all'inizio video, io quando gioco contro di loro mi muove un odio che mi fa lasciare ogni freno inibitorio. Quindi, giusto così, che bello vederli piangere, sembra Cerugani che stia piangendo, bellissimo, io quando li vedo soffrire, godo quasi come quanto li intervince, ok? Forse anche di più, io quando li vedo piangere e soffrire sto bene, perché ho proprio odio verso coloro che rovinano lo sport che più amiamo, che ci prendono in giro da cent'anni, che controllano i campionati, il mercato. Stasera li abbiamo surclassati, umiliati, abbiamo dimostrato di essere non di una spanna sopra, di cento, ok? Non l'hanno vista mai la palla, non l'hanno tirato in porta se non per quel gol, ripeto. Sì, forse hanno avuto un'occasione di Bernardeschi che l'ha pure tirata fuori, per sbaglio. E niente, ragazzi, siamo più forti, è stato giusto così a casa, gobi di merda, è giusto così, è giusto così, vi abbiamo umiliato. Se la partita non è finita dopo 45 minuti, lo dovete ai vostri più grandi top player di sempre, cioè gli arbitri, che sono giustamente il libro paga, visto che gli fate anche da sponsor, ormai è proprio la luce del sole, visto che sponsorizzate l'AIA. Quindi, giusto così, ce la meritavamo, a casa, gobi di merda, dovete soffrire, dovete proprio piangere, che bello vedervi sconfitti e umiliati. E ci portiamo a casa il primo trofeo della stagione, piccolo raffronto per i contiani, per le vedove di Conte che di calcio non capiscono un cazzo. Inzaghi, al primo anno, con una squadra molto meno forte, perché se hai Lukaku, Hakimi e Eriksen che non ti giocano più e subentrano Danfris, Cialanoculo e Dzeko, sei molto più debole. Al primo anno ha passato il girono di Champions, cosa che Parrucchino non ha fatto in nessuno dei due anni, e primo in classifica con un gioco meraviglioso che Conte neanche se allena 100 vite, e ha già vinto un trofeo, si è portato a casa la Supercoppa Italiana. Bravo, mister Inzaghi! Allora, ragazzi, mi raccomando, condividete il video, lasciate un bel like, e come commento vi chiedo, come avete visto voi la partita, raccontatemela. Sicuramente avevate paura degli arbitri, io però ieri mi sono sbilanciato in live sul mio canale, ho detto che avremmo stravinto, non ci fosse stato l'arbitro. Probabilmente succedeva così, perché ragazzi, cioè, li abbiamo ammazzati, dovevamo fare tre gol nel primo tempo. Quindi voglio sapere come l'avete vista voi. Il nostro solito saluto è latino, videte mox! Forza Inter! Forza Inter!